Mi sono ritira un corso d'acqua che ha un affluente del Ticino che si chiama Scavizzolo. Quindi ne incontreremo tanti di corsi d'acqua così. E' veramente acqua, acqua, acqua trasparente. Un'altra cosa, venendo avete visto una casa. La domanda è che case... Ecco, sì, le case... no, ma adesso ve lo ripeto. Le case che si trovano in mezzo al bosco sono tutte vecchie case di guardia caccia, principalmente. Di chi abitava e lavorava nel bosco. Proprietari o proprietari di boschi. E allora ci sono anche qua due o tre grossi proprietari terrieri di boschi e terra.